la tua gonna non era troppo corta non sopportare per il bene della famiglia non credere che sia colpa tua non temere il giudizio degli altri non far credere di essere caduta dalle scale o che sia stato un incidente la polizia di stato ha fatto molto per contrastare il grave fenomeno della violenza contro le donne in questi 30 anni abbiamo acquisito esperienza che ci consente di traguardare i risultati che più speriamo di raggiungere cioè non solo il contenimento del fenomeno ma anche la sua eradicazione oggi con il binomio protocollo zeus e soprattutto a monumento del questore siamo in grado di incidere sulla recidiva abbattendone il rischio notevolmente e quindi possiamo salvare vite aiutiamo le donne a difendersi le donne e gli uomini della polizia di stato tutti i giorni senza sosta mettono in campo ogni energia e ogni risorsa per combattere la violenza contro le donne per poter intervenire in tempo prima che sia troppo tardi non abbiate paura e denunciare in un ufficio di polizia sarete al sicuro e vi sentirete al sicuro perché avrete di fronte delle persone che vi capiranno e staranno ad ascoltare voi non siete sole grazie a tutti